Andiamo a vedere cosa stanno combinando. Salve! Salve, chi c'è qua? Cosa sta facendo Noemi? Non dovevi sistemare la tua stanza? Laite? Ma, 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 ma... Credevo che la Noemi mi sistemasse la sua stanza. Amore, ti fa arrabbiare. Cleo? Cleo, amore? Che dici? Amore... Cosa sta facendo la Noemi? Ma, io vi ho lasciato qui e ho detto, Noemi, sistema la tua stanza. Voi dovevate aiutarla, vero? Ciao, ma... Ehi... Grazie.